Per quanto riguarda il torcicollo miogeno sono necessarie alcune precisazioni. Il torcicollo miogeno rappresenta la causa della stragrande maggioranza delle plagiocefalia posizionali perché costringe il neonato a tenere la testa ruotata sempre dallo stesso lato e se non viene risolto porterà alla plagiocefalia. Purtroppo il torcicollo non si risolve da solo col tempo e non è sufficiente posizionare la testa del bambino dal lato opposto mentre dorme sperando che rimanga in quella posizione perché molto spesso tenderà inesorabilmente a ritornare dallo stesso lato viziato, come una molla. Per risolvere il torcicollo bisogna quindi ricorrere a dei trattamenti manuali delicati ed efficaci come quelli di un osteopata pediatrico con lo scopo di decontrare la muscolatura cervicale e ripristinare la corretta mobilità del collo affinché il bambino riesca a ruotare liberamente a destra e a sinistra. Avere una mobilità cervicale libera è il presupposto per non rischiare di incorrere in alcuna deformazione cranica posizionale in quanto il bambino sarà libero di alternare lato nel posizionamento della testa durante la giornata e durante la notte evitandone un appiattimento.